Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti alla giornata europea della lingua che celebra oggi il suo ventennale e benvenuti a questa iniziativa dell'Unint. Ringraziamo tutti i presenti e tutti quelli che ci seguono via streaming. Il 26 settembre per noi dell'Unint è una data chiave, data che quest'anno abbiamo ovviamente dovuto spostare al giorno successivo. Una delle facoltà che l'Unint accoglie è infatti la facoltà di interpretariato e traduzione, nella quale si formano mediatori linguistici e interculturali, traduttori, interpreti, che esercitano la loro professione in tutti i campi dell'umano. La giornata europea delle lingue, che ricorre quindi il 26 settembre, è per noi un appuntamento di particolare importanza. Ma l'ultima domenica di settembre si celebra anche dal 1914 la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che interessa trasversalmente tutte le facoltà. La migrazione dei popoli è migrazione di cultura, di lingua, di tradizioni, di storia e di storie. Oggi alla Unint queste due giornate vengono quindi celebrate in un unico afflato. Un abbraccio che si è concretizzato in una attività dedicata al migrante rifugiato afgano, che avrà urgenza e necessità di imparare la nostra lingua per accorciare quelle tristi distanze tra lui e questo paese straniero nel quale forse non avrebbe mai pensato di trovarsi un giorno. La lingua, il sapere la lingua, aiuterà senz'altro a entrare con più consapevolezza nel nostro territorio e a far sì che l'intercomprensione possa essere più celebre e più produttiva. Ecco dunque la giornata di oggi. Nel comunicato stampa abbiamo fatto presente come questa iniziativa si inserisce nel quadro delle richieste fatte sia dal Governo italiano sia dalla Chiesa. Diamo sostegno alle attività volte ad assistere i rifugiati che fuggono da persecuzioni e conflitti, ha detto il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E il nostro impegno è rivolto in particolare ad assicurare un futuro dignitoso a coloro che sono dovuti fuggire dall'Afghanistan. E Papa Francesco ha chiesto di rendere il mondo più inclusivo per i rifugiati e di non chiudere loro la porta alla speranza. Diamo quindi avvio a questa giornata che sarà divisa in due momenti. La prima appunto dedicata principalmente all'inaugurazione del corso di italiano per afghani rifugiati nel nostro territorio e la seconda, oggi pomeriggio, nella quale la dottoressa Guendalina Carbonelli, antenna italiana della DGT, la Direzione Generale della Traduzione nella Commissione Europea, ci illustrerà le opportunità di lavoro e di tirocinio per linguisti alla Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea. Nel frattempo, come avrete visto entrando, per chi è in presenza, si sta svolgendo l'allestimento dei banchetti delle lingue che si insegnano all'interno del nostro Ateneo. Ciascuno con qualcosa da mostrare, a volte anche da offrire. I lavori prendano quindi avvio e lascio la parola alle autorità accademiche. Apre il nostro incontro il magnifico rettore, professor Francisco Matteboni. Buongiorno, ringrazio la preside Maria Grazia Russo per le parole che ci ha appena detto, ma anche per aver organizzato ancora una volta questa giornata con l'aiuto di tutta una serie di persone che ringrazio pure, dai docenti coinvolti nei banchetti cosiddetti che sono lì fuori, di cui vi parlava, all'ufficio comunicazione, ai diversi colleghi che hanno contribuito. Come diceva la preside, il nostro Ateneo è un Ateneo che si proietta molto e tiene molto a seguire le problematiche e le dinamiche del mondo attuale, del mondo globalizzato, per cui noi studiamo dal punto di vista dell'economia la proiezione dell'Italia nel mondo, le dinamiche dell'economia internazionale, le relazioni internazionali, dal punto di vista della politica e delle dinamiche psicosociali, le questioni legate alla sicurezza internazionale, ai problemi internazionali che il mondo si trova a dover affrontare e ovviamente le lingue in questo sono fondamentali, per cui la nostra facoltà di interpretariato e traduzione ha due percorsi diciamo di studio, ce n'è uno che è volto alla formazione di mediatori linguistici di interpreti e di traduttori e un altro che va verso la formazione di insegnanti di lingue. Cose molto importanti nel mondo attuale, perché le lingue sono tante cose, io volevo evocarne con voi alcune molto velocemente, non vi ruberò molto tempo. Si chiama questa giornata giornata europea delle lingue. Non è che vogliamo parlare solo delle lingue europee, ma l'Europa è una comunità plurima di nazioni, identità culturali e ovviamente identità linguistiche. È la varietà, la pluralità e la diversità e al tempo stesso un'unità, perché parliamo dell'Unione Europea e si cerca sempre di capirsi, si va sempre in quella direzione, cercare di capirsi e di capire l'altro sempre di più. Le lingue, da questo punto di vista, sono strumenti, indubbiamente, molte volte le persone, a me capita, io mi occupo di lingue da una vita, le lingue sono state un filo conduttore della mia vita, comunque una cosa che mi ha occupato molto e in tutta la mia vita non ho mai smesso di imparare nuove lingue. Mi muovo bene in diverse lingue, ce ne sono altre che conosco meno bene, ma penso sempre a quando è che avrò un po' più di tempo per cercare di affrontare una nuova lingua o riprendere quelle che conosco meno. Perché? Perché lavorando sulle lingue si scoprono tante cose, si lavora su noi stessi, cosa siamo noi, ma cosa siamo noi come comunità, comunità culturale, buongiorno, cosa siamo noi, dunque come comunità che parla una lingua ma che ha alcune abitudini culturali, alcune tradizioni, eccetera, ma molto di più, cosa siamo noi come individui, le lingue sono un modo di essere delle persone. Allora ogni lingua che uno impara in qualche modo è una nuova identità e le persone che parlano tante lingue molte volte notano, ma gli altri pure notano, a me molte volte dicono ma ti cambia la voce quando parli in italiano o in spagnolo o in inglese o in francese, ed è così perché cambia la voce perché uno diventa un po' più un altro in qualche modo. Questa cosa che sto dicendo, le lingue sono la nostra identità, noi siamo le lingue che parliamo, siamo la nostra, e la domanda che la gente fa spesso a chi parla più lingue, chi si muove tra più lingue, a me viene fatta continuamente per il fatto proprio che mi muovo tra diverse lingue che uso tutti i giorni, ma in che lingua sogni, in che lingua pensi? E io rispondo sempre non lo so, dipende, certe volte mi rendo conto che nei sogni sto parlando con qualcuno e mi rendo conto della lingua in cui sto parlando, ma molte altre volte io non lo so quando penso in che lingua penso, perché uno pensa con dei concetti, non è legato alle parole necessariamente, e il passare da una lingua all'altra è proprio questo, riuscire a staccarsi dalle parole di una lingua per ridire le stesse cose in un'altra lingua, non trasferire parole in parole, ma passare attraverso i concetti, un discorso complesso. Allora, quando dico poi sono la nostra identità le lingue, voglio fare qualche esempio, cioè da una parte c'è il che cosa, come sono, che cosa sto cercando di dire, ma questa riflettere, ragionare, lavorare sulla lingua è imparare a cercare dentro di sé, a cogliere delle cose. Molte volte se uno chiede a un parlante nativo di una lingua, che vuol dire questo? La gente non lo sa. Io ho amici spagnoli che in Italia dicono, ma questo ormai che utilizzate, che cos'è ormai? E gli italiani sono incapaci di spiegare cosa sia ormai. Oppure, quando la mamma dice al bambino, guarda, hai fatto una brutta cosa, non ti do il gelato stasera. E il bambino risponde, tanto non lo voglio, o tanto non lo volevo. Cosa sta dicendo con quel tanto? E' molto carino questo, perché uno chiede a un parlante d'italiano che vuol dire questo tanto? E la gente dice, tanto, tanto, cioè che non lo vuole, tanto non lo vuole, ma la gente non è capace di spiegare che cos'è. Il bambino che sta dicendo tanto non lo voglio, se uno fa questo sforzo impara a guardare dentro di sé, ed è un guardare dentro di sé che poi ci porta a guardare dentro di noi da un punto di vista molto più profondo, anche psicologico. Il bambino che dice, tanto non lo voglio, sta dicendo qualcosa del tipo, guarda mamma, tu mi hai detto che non mi dai il gelato, ma c'è una cosa prima di cui ti devo informare, che tu non sapevi, ma era già lì, è che io non voglio il gelato. Per cui in qualche modo il bambino dicendo, tanto non lo voglio, sta togliendo la base per la punizione della madre, perché non ha più alcun fondamento. Insomma, se prima c'era una cosa che tu non sapevi, di cui che non stavi tenendo in considerazione, ed è che io non voglio il gelato, allora che punizione è? Non ha alcun senso. Però è carino questo, perché imparare a ragionare così e capire che cosa diciamo quando diciamo le cose ci porta a guardare dentro di noi. Ormai, vi ho citato quest'altro esempio di ormai, gli spagnoli dicono, ma che cos'è questo ormai? Che differenza c'è tra ormai e già? Perché sono simili in spagnolo, infatti, si userebbe una cosa simile a un già, però non è esattamente questo. Si direbbe ora già, a ora già, una cosa del genere. Perché in ormai ci sono due cose. Da una parte c'è una cosa che è accaduta, e quando noi diciamo ormai, stiamo dicendo questa cosa accaduta e consolidata, ma dal tempo stesso una cosa accaduta, ma era nuova, è accaduta una cosa nuova, ma è consolidata, è così e basta. Mentre con già parliamo di qualcosa che era presupposto, ci si aspettava quella cosa. Quando uno dice già partito, o chiede già partito, vuol dire che sta aspettando che o sa che l'altro a un certo punto deve partire. È già arrivato? Sapevamo che doveva arrivare, no? Con ormai non c'è questa aspettativa precedente, ma è comunque il dire come con già. C'è una cosa che è consolidata, ma ormai la presenta come nuova e già la presenta come presupposta. Allora, vedete, vi faccio questi esempi per dire che ragionando sulle lingue, che sono strumenti meravigliosi, sono identità, ma sono molto, molto di più. E quando uno inizia a ragionare e a cercare, comincia a scoprire delle cose di sé e delle nostre dinamiche, di come funzioniamo nell'interazione. E paragonando le lingue si scoprono cose molto interessanti. Io ho scoperto una cosa sull'italiano rispetto alle altre lingue. L'italiano, tra le lingue che io conosco, quelle che conosco bene sono, oltre all'italiano, lo spagnolo, il francese, l'inglese, me la cavo non male in tedesco e in portoghese. In italiano c'è un livello di presupposizione dei dati molto più alto rispetto alle altre lingue. E' come se gli italiani pensassero, cioè, avessero in mente, la gente non è consapevole di questo, ma io so una certa cosa, penso una certa cosa e la dopo è scontata per gli altri. E io nel mio lavoro quotidiano di rettore, molte volte mi trovo a discutere o a correggere delle cose con le persone che usano articoli determinativi. Il Senato affronta il problema della mancanza di non so che cosa, per esempio. Ma questi articoli determinativi significano l'articolo determinativo. Se io dico a qualcuno ti ho portato il libro, con il, la parola il, articolo determinativo, dice, qui c'è un dato che viene da prima, questo libro, tu sai a cosa mi sto riferendo. Se invece dico ti ho portato un libro, ti dico, tu non sapevi di cosa stessi parlando, non devi cercare in ciò che è successo tra noi prima per capire cosa sia questo libro. E ho notato che gli italiani, quando scrivono i verbali, ma in tanti contesti, presuppongono, danno le cose come per scontate. Cosa che molte volte agli stranieri colpisce in qualche modo. È come se noi, dalla prospettiva italiana, quello che è dentro di me, insomma, io lo do un po' per scontato anche per gli altri. E questa cosa è molto interessante, perché, vedete, cominciamo a vedere, uno partendo da questo, comincia a vedere tutta una serie di cose legate all'italiano, e in studi sulla logica e le lingue emerge che l'italiano è una lingua che ha molti meccanismi che potremmo chiamare di simmetrizzazione, di trattare i rapporti come se fossero bidirezionali, no? Che altre lingue non hanno. Queste cose sono carine, perché ci permettono di scoprire cose su di noi. Non voglio tediarvi troppo, ma una cosa che vorrei aggiungere, le lingue, lo diceva la Presid, sono anche opportunità di lavoro, all'inizio accennato al fatto che sono, e nell'Unione Europea sono opportunità enormi di lavoro, l'Unione Europea è un mondo nel quale si traduce molto, ma insegnare le lingue, insegnare una lingua a qualcuno, è aiutare quel qualcuno ad acquisire un'altra cultura, ad acquisire delle chiavi di maggior comprensione del mondo. E questa cosa è importantissima. Allora, da questo punto di vista, noi qui oggi vogliamo annunciare pure che questo Ateneo, proprio per il discorso che faceva la Preside della giornata mondiale dei profughi e dei rifugiati, noi oggi vogliamo anche annunciare che questo Ateneo organizzerà dei corsi di italiano per stranieri diretti agli afghani, appunto, ai rifugiati, alle persone che sono dovute fuggire dall'Afghanistan. Questo è un piccolo gesto, un piccolo gesto simbolico, insomma, per cercare di dire, noi vogliamo contribuire a che queste persone si possano integrare bene qui, possano inserirsi qui e capire le chiavi di funzionamento del mondo nel quale si trovano, loro malgrado, magari. Un'ultima cosa, dunque, imparare le lingue e scoprire gli altri, ma anche noi, insegnando l'italiano agli afghani, impareremo e scopriremo tante cose sugli afghani, sulla loro cultura, ma sugli esseri umani, sul mondo. E questa è la bellezza e la ricchezza delle lingue. E da questo punto di vista sarebbe importante che noi ci abituassimo a difendere la nostra identità, proteggerla, ma non per dire via agli altri, no, il contrario, essere consapevoli di chi siamo noi, di come siamo noi, per poter interagire meglio con gli altri, ma essere sempre accoglienti anche con gli altri. Dico questo perché in Italia c'è una tendenza molto, secondo me, devastante, dilagante, insomma, molto forte, ma è devastante in qualche modo usare parole inglesi dovunque, dove sono assolutamente innecessarie. E credo che dovremmo fare tutti quanti uno sforzo. Chi conosce bene l'inglese, io in inglese mi muovo bene, non ho problemi, dico sempre che non c'è bisogno di mettere parole in inglese. Se vogliamo, se volete parliamo in inglese, allora. Ma perché dobbiamo parlare in inglese? Perché dobbiamo proteggere anche la nostra identità, la nostra cultura, ma non, ripeto, per creare barriere e muri, come troppi, purtroppo, nel nostro mondo dicono, difendono e pretendono, ma per cercare di promuovere la ricchezza della varietà, della diversità e dell'arricchirsi a vicenda. Io mi fermerei qui e vi ringrazio e auguro a tutti buon lavoro. Grazie, magnifico Rettore. Lasciamo ora la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dottor Maurizio Finicelli, che riveste in Ateneo anche lo specifico ruolo di delegato del Consiglio di Amministrazione della Commissione Terza Missione, da lui presiduta. La terza missione è quell'insieme di attività con le quali gli Atenei interagiscono direttamente con la società e con il territorio. attraverso iniziative di vario genere, culturale, sociale, divulgativo. Ed è una vera e propria missione, perché chi più sa, chi è stato più fortunato di altri, chi ha avuto la possibilità di seguire un percorso privilegiato, ha il dovere di condividerlo con gli altri. La parola al Presidente, Dottor Maurizio Finicelli. Grazie. Grazie, Presidente Russo. Grazie anche al Rettore per il suo intervento. Sono qui per portare il mio augurio personale di buon lavoro in questa giornata così importante, ma anche dell'intero Consiglio di Amministrazione. Non solo un augurio, ma anche un apprezzamento per come è stata impostata questa giornata, proprio perché è importante naturalmente la giornata europea delle lingue, ma l'apprezzamento è perché viene declinata in una maniera, secondo me, particolarmente significativa. viene declinata naturalmente sul capisaldo della didattica, che naturalmente è l'attività principale della nostra realtà, del nostro Ateneo, ma è declinata anche nel segno della solidarietà, che è anch'esso un capisaldo insieme ad altri del nostro Ateneo, della nostra Università, della nostra comunità di lavoro. Ne siamo orgogliosi e vogliamo continuare su questa strada, perché proprio questi capisaldi formano la costruzione della civiltà umana. Il termine è altoisonante, ma anche nel nostro sforzo quotidiano di fare iniziative di questo genere, di coinvolgere e di coinvolgerci. E naturalmente il mio ringraziamento va a tutti quanti gli ospiti che sono con noi per cercare di fare qualcosa non solo in termini dichiaratori e di semplici parole, ma in termini fattuali. Credo che questo sia quello che possa fare la differenza. e mi piace anche sottolineare in 30 secondi un altro aspetto che ci sta veramente a cuore, quello naturalmente di essere un'università internazionale e quindi di avere una dimensione che è globale, ma nello stesso tempo di cercare di mantenere sempre un radicamento importante con la nostra vita di tutti quanti i giorni, con il nostro territorio. E' anche per questo che effettivamente mi piace unire come facciamo operativamente questa visione globale con questo radicamento locale. E' per questo che sono contento di avere e di sentire sempre al nostro fianco anche le organizzazioni territoriali. C'è il Presidente del nostro Municipio, c'è un Assessore del Municipio accanto che naturalmente ci daranno il loro contributo, ma mi sento naturalmente di ringraziarli per la loro presenza. Io credo che questa sia una strada che questa sia una strada importante da seguire con determinazione. Da parte nostra la determinazione c'è tutta e naturalmente sono anche nella convinzione di poter dire che tanto più riusciremo ancora di più a fare eventi in presenza insieme a eventi sempre in collegamento, tanto più sarà facile fare passi importanti nella giusta direzione. Grazie. Grazie Presidente. Segue ora l'intervento del Presidente dell'Ottavo Municipio, il Dottor Amedeo Ciaccheri, con il quale la nostra Università ha stretto rapporti di particolare collaborazione, già che il Presidente accompagna costantemente le nostre iniziative. Se non ricordo male, l'ultima volta perlomeno con me e del nostro incontro è stato proprio l'altro anno di questi tempi, quando abbiamo attribuito una borsa di studio a una studentessa capoverdiana il ricordo dell'uccisione di Willy Montairu, perché venisse sottolineato come solo la cultura può sconfiggere la violenza. L'altro giorno, il 24 settembre, in occasione della notte della ricerca abbiamo visto un film quasi nemici in cui un'Algerina che vive nei soborghi parigini viene fatta crescere attraverso un intenso percorso di scontro e incontro, ma sicuramente un percorso culturale con un docente, fino a raggiungere la meta desiderata. Ecco, l'incontro di oggi vuole significare un po' tutto questo, raggiungere la meta desiderata. Siamo coscienti del fatto che la conoscenza, in questo caso la conoscenza della lingua italiana per alcune giovani donne afghane, maggior parte donne, può essere la chiave per entrare in un mondo che fino a ieri era per loro sconosciuto e che oggi può diventare il loro futuro, proprio contro quella violenza, quella terribile violenza che hanno subito. E anche la conoscenza per noi, conoscenza dell'altro, di una realtà così ricca come quella afghana che entrerà nella nostra università. Quindi, grazie Presidente per la sua costante presenza accanto a noi. Le lascio la parola. Grazie mille Presidente. Permettetemi di ringraziarvi voi per la possibilità di essere come istituzione di prossimità sempre accompagnato dalla intelligenza e dal lavoro costante che l'Università Internazionale svolge nella nostra città e come ricordava il Presidente del Consiglio d'Amministrazione il Dottor Finicelli dalla dimensione globale dell'Università. Saluto piacevolmente e con affetto anche il Rettore ovviamente e tutti quanti i presenti. È un onore per me essere qua ancora questa volta lo ricordava bene la Preside. L'ultima occasione formale è stata in quel passaggio ma poi sono state tante diverse anche le occasioni informali in cui in quest'anno per appuntamenti di lavoro di collaborazione di progettazione comune per ribadire il ruolo fortemente radicato anche in questo territorio che l'Università mantiene che ci hanno visti insieme. Oggi per me è un onore perché state partecipando alla giornata europea delle lingue con un gesto secondo me e secondo la nostra comunità particolarmente significativo che ci ricorda alcuni elementi che fanno parte della nostra storia nazionale e il tema della solidarietà ovviamente la necessità ormai oggi di valicare i confini nazionali dentro una dimensione globale dentro uno sguardo globale ma anche concentrarci sul valore che il tema del diritto alla parola oggi rappresenta nel mondo perché noi oggi qua io vi ringrazio per questo per aver colto questo tema presentate un corso che sarà di sostegno a un ingresso forzato di donne che sono qua in quella che potremmo chiamare un esilio un esilio cercato in questo momento storico di fronte a una sottrazione di diritti di democrazia che si sta vivendo in questo momento in Afghanistan che condizionerà gli assetti geopolitici del corso dei prossimi anni ma per quanto cercato ricercato desiderato comunque sia un esilio dentro la nostra storia nazionale il tema dell'esilio è un tema che ricorre spesso anche dentro la storia della nostra lingua della lingua italiana è inutile ricordare quanto dentro la produzione delle basi della nostra lingua italiana il tema dell'esilio sia stato fondamentale in Dante o in tanti altri ecco questo ci ricorda un elemento che dentro una dimensione europea per me è importante ribadire in ogni occasione pubblica per rimarcarne quella necessaria dose d'attenzione che dovremmo dedicare a fatti che per noi sono ordinari il tema della pace nel nostro continente viene garantito da più di 80 anni da un patto politico che però ne va a sentirsi come dire parte di un eccezione dentro la dimensione globale temi come il rispetto dei diritti umani e la cessazione dei conflitti armati continuano a essere invece un elemento quotidiano dentro la cronaca del mondo che incrociamo in questo momento storico essere consapevoli di questa eccezionalità che l'Europa unita ci garantisce ci deve far sentire anche consapevoli allo stesso tempo della responsabilità di sentirsi compartecipi il il presidente ricordava coinvolgere coinvolgerci sentirci coinvolti dentro questa dimensione globale e con la stessa attenzione con cui il rettore ricordava il ruolo delle lingue nella nostra formazione soggettiva dentro la formazione della nostra individualità io credo che noi qua oggi ribadiamo un tema che la democrazia ha tanto a che fare con la parola a che fare con la possibilità di parola con la possibilità di parola di costruire una comunità di costruire una prospettiva di mondo con la capacità della lingua di definire qual è lo schema di valori dentro cui noi ci muoviamo come comunità e quindi anche come la traduciamo dentro il nostro ruolo nella comunità e questo ruolo proposto alle istituzioni essere capaci di tradurre il portato di una comunità dentro una visione e darne pratica darne concretezza attraverso delle indicazioni delle leggi delle disposizioni e questo ci riguarda anche come piccole istituzioni di prossimità quali quelle che rappresento in questo momento che però hanno tanto a che fare con quella parola quotidiana che incontra quotidianamente appunto la qualità della vita delle persone la qualità della vita della città sentirci parte di questa quotidianità ci fa essere al centro di un cortocircuito al centro di una tensione la dimensione globale della lingua e la dimensione territoriale della lingua lo diceva il preside prima come noi riusciamo a far sposare questi due poli secondo me lo interpretate bene oggi costruendo e radicando qua una proposta che fa i conti con un presidio di cultura qual è l'università internazionale dentro un territorio che ha fatto negli anni tanto per la solidarietà ma sente la fame di necessarie nuove iniziative a confronto con una dimensione molto più grande a confronto con la dimensione di quello che la storia in questo momento particolare ci sta consegnando come emergenza e quella dell'Afghanistan è chiaramente un'emergenza che seguirà nel corso dei prossimi anni ma che ci interroga oggi nel presente su quello che possiamo e dobbiamo fare quindi grazie davvero alla UNINT per questo gesto perché ha un valore importante ovviamente per il nostro territorio ma probabilmente anzi sicuramente per la collocazione di questa iniziativa in un quadro ben più complesso di fronte dei scenari internazionali che dovremo continuare a seguire nei prossimi anni grazie Presidente Sciaccheri veramente grazie davvero fuori scaletta volevo invitare la dottoressa Carmela Lalli assessore alla cultura del nono municipio che però vive nell'ottavo municipio la ringrazio per essere venuta per essere qui presente con noi e quindi volentieri le lascio la parola grazie grazie a tutti grazie per l'invito grazie per le parole che il magnifico rettore ha espresso in merito al ruolo che poi la lingua ha nella nostra storia può essere un diaframma cioè in realtà può essere un ostacolo ma in realtà quello che è stato espresso e che assolutamente è sacrosanto in realtà costituisce un'identità culturale ed è proprio attraverso la lingua che poi esprimiamo la nostra identità e tutto questo è importante non solo nella giornata ma è importante sempre nel quotidiano ora superare questo ostacolo è importante nel quotidiano è importante anche al fine di costruire una rete solidale sul nostro territorio perché la nostra città in realtà è una città multietnica già di base già culturalmente è una città multietnica e quindi molto spesso diciamo frequentemente ci dimentichiamo di questo passaggio e viviamo diciamo quella realtà un po' poco attenta a questo che è un aspetto invece che potrebbe ed è sicuramente un arricchimento per tutti quindi è bello anche che attraverso questa giornata poi in realtà venga come dire comunicato questa iniziativa che è interessantissima e importantissima come come assessore di un territorio io devo dire qui abbiamo nove onlus con la quale abbiamo iniziato a collaborare in tempi non sospetti pensando che il nostro interlocutore fossero le scuole le scuole del territorio sono state messe in contatto con la realtà afghana quando era possibile proprio per far sì che venisse conosciuta una realtà così distante ma così presente e questo per noi è stato un momento e devo dire per la comunità scolastica importantissimo quasi non non immaginabile ed abbiamo capito che avevamo centrato avevamo centrato un obiettivo cioè quello di rendere i cittadini cittadini consapevoli quindi di colmare quel divario ora ci troviamo in un momento diverso l'abbiamo seguito insieme con nove onlus l'abbiamo abbiamo avuto insomma un agosto intenso però insomma averne parlato prima cioè aver fatto un lavoro precedente di riconoscimento in una comunità di un'identità culturale che ci riguarda ci riguarda perché la missione italiana è presente in Afghanistan da tantissimo tempo e in realtà ha creato un legame con i cittadini afghani i cittadini afghani parlano un linguaggio storico culturale che noi non conosciamo per la nostra identità culturale e quindi era importante parlarne perché quando abbiamo mostrato comunque siamo entrati in contatto con le donne afghane che attraverso i percorsi e i progetti di nove onlus hanno come dire cambiato hanno potuto creare un nuovo un nuovo percorso nella loro vita per gli studenti era un qualcosa di assolutamente sconosciuto assolutamente nuovo le domande sono state tantissime hanno rivolto tantissime domande alle donne afghane e lì si è creato un cortocircuito però un cortocircuito importante ora quegli stessi studenti hanno vissuto il nostro il nostro agosto perché è stato anche nostro perché le iniziative per fare e impostare questi corridoi umanitari e siamo solo all'inizio perché adesso dobbiamo voltare pagina adesso abbiamo la pagina dell'inclusione abbiamo la pagina dell'accoglienza e quindi dobbiamo impostare un nuovo percorso per cui l'amministrazione territoriale come diceva anche il presidente è importante perché in realtà deve creare proprio quella base che serva a tutte le associazioni e a chi veramente ha agito e si è messo a disposizione delle difficoltà possa trovare poi quell'appoggio quindi bisogna lavorare con le istituzioni territoriali con quelle governative per creare questo legame e farlo diventare sempre più solido dov'è che troviamo sicuramente una base in quello che ci ha presentato UNINT perché ha fatto rete ha fatto rete sul territorio ha fatto rete con quelle che sono le necessità quindi io penso che tutta questa energia vada assolutamente convogliata nel modo giusto e mi sembra insomma le premesse qui ci siano assolutamente e quindi ringraziamo per questo percorso che è ormai una cosa concreta così come ringraziamo tutte le Ollus che effettivamente si sono prodigate in questo in questo periodo proprio per creare questo ponte vero reale per far sì che insomma i profughi arrivassero nelle migliori condizioni è chiaro che hanno lasciato la loro terra obbligatoriamente e quindi noi dobbiamo cercare di fare di saldare questo questa rottura quindi devo dire sì grazie a voi di avermi di avermi ospitato io continuo ad affiancare Nove Onlus perché ritengo che sia stato importante questo percorso ricordiamo a tutti che parlare di identità culturale è un bel parlare quindi parliamo noi stesso e non lo dimentichiamo grazie grazie assessore visto che è stata già annunciata lascio la parola alla dottoressa Flavia Mariani il contatto con la dottoressa Mariani mi è stato fornito dalla professoressa Antonella Ercolani che chiuderà questo incontro è stato un po' un amore a prima vista appena ci siamo sentite abbiamo pensato che questa giornata poteva essere veramente organizzata in questo modo quindi grazie Flavia Mariani è il referente di Nove Onlus come avete sentito che ha collaborato appunto a questa giornata e Flavia Mariani già ha contribuito appunto a progetti di emergenza Afghanistan lavorando assiduamente per l'evacuazione e la realizzazione del ponte aereo da Kabul ha lavorato per l'inaugurazione dell'integrazione scusate di profughi sull'Italia grazie a Flavia Mariani entreremo in contatto anche con altre realtà con altri Onlus per mettere le nostre competenze a servizio di questo popolo in diaspora grazie quindi lascio la parola grazie a voi grazie infinitamente perché quello che sta avvenendo è anche una giornata simbolica è effettivamente un cambiamento epocale quello che è forse l'opportunità di trasformare una tragedia quella che abbiamo vissuto e che ha vissuto un popolo in questo momento però è un'opportunità di crescita e integrazione culturale quello che è successo è successo però esiste una realtà e effettivamente il linguaggio è un canale è un portatore è un media di cultura di identità ma anche uno strumento di traduzione che permette un avanzamento l'integrazione quindi diciamo che in un'ottica positiva è una possibilità per la nostra società di continuare a lavorare su un cambiamento del punto di vista su un ampliamento del punto di vista e sull'integrazione culturale quindi vuol dire dare creare sia una rete solidale e dare lo strumento più importante alle persone che in questo momento arriveranno qua quindi di poter comprendere inizialmente perché proprio comprendere e poi restituire il diritto alla parola quindi creare una possibilità di scambio e di non di sopravvivenza ma di vita degna e giusta anche perché parliamo di persone che hanno un grande spessore culturale che hanno combattuto in realtà noi in effetti abbiamo anzi a volte anche con fastidio usiamo il nostro diritto acquisito di studiare mentre in realtà diciamo che negli ultimi vent'anni in Afghanistan in particolare per le donne è stato un atto eroico ogni giorno cioè hanno dovuto fra l'altro combattere per diritti per farsi riconoscere diritti che sulla carta c'erano perché in realtà loro li avevano tutti però era un rischio era un rischio uscire di casa era un rischio andare a scuola era un rischio studiare qualunque materia artistica musica o quant'altro era un rischio anche muoversi per la città o poter imprendere qualsiasi cosa infatti la patente è stato un cambiamento cioè quello che sarà importante è anche capire ridare cioè possono aiutare anche i nostri studenti e noi stessi a ridare un valore a quello che noi abbiamo già acquisito da sempre cioè per noi è naturale avere la patente è naturale andare a scuola è naturale poter partecipare a una serie di attività queste persone che noi abbiamo seguito insieme ad anche altre appunto al governo e altre Ollus durante l'evacuazione sono state persone che hanno dato grazie a vent'anni di eroismo nel conquistare dei presidi sono riusciti anche a fare un'evacuazione che è stata la più anomala della storia cioè che è stata fatta su Whatsapp quindi dove il linguaggio è stato fondamentale dove hanno collaborato anche persone della diaspora perché alcuni parlavano inglese altri no quindi il linguaggio è sempre è anche un meccanismo di salvezza oltre che di integrazione e comprensione così come lo è come il mondo cambia il linguaggio cambia le nuove attitudini e fondamentalmente anche la digitalizzazione nessuno avrebbe ipotizzato una cosa di questo genere oggi abbiamo forse un mondo digitale e la rete che ha permesso anche a mondi molto lontani di vedersi anche a persone che non sono mai uscite dallo stesso paese infatti diciamo che il primo approccio con tutte le persone che ora sono dislocate fra l'altro in tutto il territorio italiano in questo momento di assestamento è proprio come essere teletrasportati su Marte c'è una tale rapidità di cultura senza neanche un bagaglio perché la verità è che sono stati veramente teletrasportati qui quindi è vero che il linguaggio è la cosa più importante ma soprattutto che questo venga offerto dai territori e soprattutto dalle strutture che si occupano di cultura quindi dall'università dalla scuola e da chi ha gli strumenti per poter creare un'accelerazione di integrazione e anche poter riconoscere quali sono le modalità migliori dell'integrazione quindi è importantissimo da questo punto di vista anche quello che possono fare i territori noi stiamo andando anche in tutta Italia oltre che sul Lazio perché essere parte di un contesto vuol dire essere anche avere capacità di relazionarsi avere persone che ti accettano e avere modalità di poterlo fare quindi tra l'altro l'università è forse il posto migliore anche per poter creare un sistema di relazioni però il territorio in questo è fondamentale quindi noi siamo convinti che il lavoro sarà lunghissimo speriamo anche di poter fare di più rispetto a quello che è stato fatto nella corsa di una evacuazione di emergenza di poter implementare l'aiuto a chi può arrivare ovviamente di poterlo portare anche a chi lì deve rimanere in questo momento ha bisogno proprio di cibo e materie prime però credo che questo sia un passaggio per far pensare a tutti che attraverso il linguaggio i confini devono iniziare a sparire per lo meno da un punto di vista mentale che sarebbe bello pensare che il mondo è casa di tutti non di qualcuno o appannaggio di alcuni soltanto per cui grazie di cuore veramente da parte anche di tutte le nostre ragazze e ragazzi perché ci sono anche dei uomini questo diciamo meno male grazie mille grazie mille dottoressa mariani e grazie per averci aperto questa questa finestra per aver aperto questa porta alla università degli studi internazionali di Roma ora vorrei lasciare la parola a un nostro studente un nostro studente afgano che conosce molto bene la realtà dalla quale stanno fuggendo i suoi connazionali e che ringraziamo per essersi reso disponibile a offrire una testimonianza dei suoi trascorsi il dottore Ismaili Nasiri oltre a frequentare la nostra università è già interprete e mediatore culturale presso organizzazioni internazionali come Frontex l'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera le ASO l'agenzia dell'unione europea che si occupa principalmente dello sviluppo del sistema di asilo nella comunità europea e l'OIM l'organizzazione internazionale per le migrazioni che è la principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio Ismaili collabora anche con il ministero dell'interno soprattutto nel campo dell'immigrazione è arrivato in Italia nel 2009 con una borsa di studio italiana che gli ha permesso di studiare a Perugia nella facoltà di scienze politiche percorso in relazioni internazionali e oggi studia all'UNINT nel percorso di interpretariato e traduzione la parola al dottor Ismaili Nasir Buongiorno a tutti vorrei ringraziare questa università che mi ha dato la possibilità di condividere con voi la mia esperienza di vita e vorrei soprattutto ringraziare questa università che ha preso parte per aiutare le persone vulnerabili che sono venute dall'Afghanistan per insegnarli la lingua la lingua è come una chiave per aprire nuova cultura e quindi sono fiero di questa università che ha questo ruolo per dare questa chiave a questa gente vulnerabili e soprattutto per integrarli in questa società vorrei inoltre ringraziare l'autorità italiana per la solidarietà e per l'aiuto che ha dedicato al popolo dell'Afghanistan e del loro aiuto per il trasferimento delle persone vulnerabili in Italia sono nato a Erat in Afghanistan a poche ore della mia nascita che avevo solo quattro ore di vita un bombardamento russo costrinse mia madre a scappare da casa dopo solo sei mesi della mia nascita mia madre fuggì definitivamente dall'Afghanistan per rifugiarsi in Iran dove c'era il mio padre rifugiato in precedenza fino a dieci anni ho vissuto in Iran vivendo l'Afghanistan soltanto attraverso le parole di mia madre lei ama l'Afghanistan e mi aveva trasmesso soltanto immagini positivi di un paese con alte montagne pieno di foreste fiumi cascate creando così una bella immagine del mio paese da adolescente immaginavo un paese simile a quello del cartone Heidi con ampie vallate verdi dopo la caduta di governo di Najibullah e la vittoria dei Mujahideen mio padre decise di tornare subito in Afghanistan nella sua patria dove io ero desideroso di tornare nonostante tutto però sentivo che quella era la mia patria sentivo un senso di appartenenza dentro di me ma dopo tre anni dal nostro ritorno in Afghanistan arrivarono i talebani e la nostra vita cambiò radicalmente all'inizio non ci rendevamo conto che cosa volesse dire un talebano per noi erano soltanto i studenti religiosi che avrebbero portato giustizia e serenità nel paese la mattina che arrivarono in città questi uomini con barbe lunghe capelli lunghi turbanti in testa e un linguaggio che faceva trasparire ignoranza non conoscevano la nostra cultura e noi non conoscevamo la loro cultura sembravano alieni il loro modo di vivere era a posto del nostro vedendoli capì che avrebbero portato soltanto guai dal primo giorno del loro arrivo a Herat nuvola nera della dittatura ignoranza coprì la mia città e non vedevo l'altro che paura e terrore i sorrisi smisero di esistere dovevano dovevamo vivere come ha vissuto maometo 1400 anni fa niente musica tv teatro niente cinema hanno distrutto il nostro unico cinema in città per costruire una moschea al suo posto alle donne fu imposto il burka fu vietato di uscire da sole potevano soltanto essere accompagnati da solo uomo di famiglia furono privati di ogni libertà non potevano non potevano né lavorare né studiare mia madre era sarta e lavorava in casa dall'arrivo dei talibani offrì il suo aiuto alle ragazze per insegnarli un mestiere tanti tanti dei miei compagni smisero di venire a scuola prima dei talibani eravamo circa 40 studenti in nostra aula e dopo il loro arrivo eravamo rimasti solo una decina mio padre insegnava e mio padre esisteva di continuare la scuola ad ogni costo quindi noi studenti eravamo obbligati ad avere il turbante la barba e studiare le lezioni islamiche almeno due o tre volte tre ore durante l'orario scolastico insieme allo studio dell'islam la lettura del corano era per noi giovani l'attività più importante e entrarono nella società e nelle nostre menti costringendoci ad un cambiamento i giovani non avevano più svaghi non erano più liberi neanche dentro le loro case l'unico gioco che potevamo fare ed in nascosto era quello delle carte carte poker poteva però succedere che alcuni venissero arrestati e umiliati davanti a tutti anerendo i loro volti e mettendo al collo collane di carta questo doveva essere un avvertimento per l'intera città i venerdì per noi erano diversi dopo un paio di anni potevi cioè il venerdì all'estadio c'erano le esecuzioni le donne venivano lapidati gli omosessuali uccisi da un muro lanciato sopra i latri puniti fucilazioni eccetera tanti di questi ero presente lì dopo un paio di anni potevi vedere il cambiamento ideologico della città della società che io anche io ero diventato un'altra persona avevo scelto di frequentare la scuola coranica dove ogni giorno dovevo memorizzare una pagina del corano il maestro ci interrogava ed ogni nostro esbaglio ci poniva con la furusta ai piedi i piedi venivano incastrati nel bastone che aveva una fessura e venivano schiacciati da questo bastone che ruoteava sui piedi poi due ragazzi prendevano due lati del bastone e il maestro per ogni esbaglio batteva una furusta sui nostri piedi quindi ogni giorno cercavo di memorizzare bene una pagina del corano per non essere frustato mi ricordo che un giorno un uomo che aveva un negozio vicino casa mia mi chiese perché andassi sempre alla scuola coranica perché anziché andare ad imparare un'altra lingua come inglese io mi allontanai da quella persona la considero la consideravo un infedele oggi mi chiedo come sia stato possibile che io abbia provato e pensato determinate cose ho capito l'importanza della formazione il potere e il suo potere e quanto possa influenzarti se la situazione fosse continuato e io avesse continuato a vivere lì non so che persona sarei potuto diventare come come disse marx la religione è l'oppio dei popoli ma secondo me se la religione venisse utilizzato dalle persone inoranti come i talebani non sarebbe solo l'oppio ma proprio veleno ecco perché vorrei dirvi che la situazione attuale in afghanistan è molto pericolosa se il loro governo continuerà sarà peggiore dell'ultima volta e dopo venti anni noi affronteremo una nuova generazione afghana palaggiata dalla nuova politica afghana e potrebbe diventare un pericolo per tutti abbiamo passato sei anni sotto la nuvola dell'ignoranza fino al 2001 quell'anno per noi quell'anno per tutto il mondo fu l'anno del terrore l'anno in cui ci fu l'attacco alle torre gemelli dove furono uccisi migliaia delle persone ma fu per noi l'anno in cui ci fu portato la bandiera della democrazia della libertà della speranza fu un anno di gioia di felicità di ritorno alla luce di speranza togliamo i turbanti riprendemmo ad ascoltare la musica a ridere e a fare volare i nostri accoiloni quell'anno le donne poterono uscire passeggiare nelle strade a respirare l'aria fresca tornare le persone tornano le persone istruite a costruire la patria vennero i militari del Nato e noi non ci sentivamo più soli vedevamo che il mondo ci vuole bene ed era venuto a salvarci riaprirono le scuole e le università anche per le donne che tornarono a lavorare e si riaccese la tv non mi dimentico mai quando ieri americani bombardarono le basi degli talebani noi andavamo sul tetto a guardare non ne scappavamo non avevamo paura anzi eravamo felici per l'odio che avevamo verso i talebani e la fiducia verso gli americani il primo giorno in cui talebani lasciarono Herat io piansi dalla felicità non riesco a spiegare la mia sensazione ma posso dire che le laccheri mi uscivano dagli occhi ridendo contemporaneamente alla conferenza di Bon mio zio fu scelto come ministro dell'istruzione poiché era solo a Kabul e la sua famiglia era in America andai a vivere con lui lui mi diceva sempre che per ricostruire il nostro paese dovevamo essere persone istruite dovevamo imparare studiare faticare fino all'inizio mio zio creò un'università con il metodo di studio a livello standard internazionale lui riuscì a fondare l'università americana a Kabul nel 2004 e fino all'intervento talebano era la miglior università dell'Afghanistan la settimana è scorsa ho visto una foto dei talebani dentro quell'università che dicevano qui i lupi venivano addestrati con pellice di pecora contro il popolo musulmano mi dispiace veramente che quella università un giorno diventerà scuola coranica sono passati 20 anni abbiamo assaggiato il sapore della libertà dell'uguaglianza di coesistenza avevamo il Parlamento con il 28% di donne avevamo l'elezione la libertà di espressione abbiamo creato le dighe per controllare i nostri fiumi per avere elettricità abbiamo ricreato le scuole gli ospedali siamo riusciti a mettere fine alla coltivazione dell'opio grazie agli italiani grazie agli italiani che hanno suggerito e finanziato la pianta del zafferano come sostituto per i coltivatori dell'opio solo adesso a Herat produciamo 4 tonnellate di zafferano all'anno con tanti altri sviluppi dell'entotto tutta questa fatica è diventato un sogno e siamo ritornati al punto di partenza perché perché quando i talebani erano gruppi terroristici e tanti di loro erano nella lista nera delle Nazioni Unite gli hanno dato un ufficio in Qatar per legittimare perché hanno messo pressione sul governo di Ghani per liberare 7000 talebani dalle regioni che sono ritornati nel campo di guerra perché hanno fatto un trattato di pace con loro secretamente e nessuno ha saputo dei contenuti perché il mondo crede che i talebani siano cambiati e non siano più le stessi perché la resistenza di Massoud è rimasta sola senza supporto visto che combatte contro estremismo e fondamentalismo queste sono le domande che ogni afghano si chiede a quali cercheremo di rispondere signori i talebani non sono musulmani perché se Mahometo fosse vivo non avrebbe accettato questo Islam da loro rappresentato non potranno mai lavorare nello stesso ufficio con le donne o con una persona dell'etnia Hazara come dimostra la creazione di governo non inclusivo che hanno fatto il mese scorso i non musulmani per loro saranno sempre degli infedeli lasciare i talebani in un paese con le armi abbandonate dagli americani potrebbe essere pericoloso non solo per il popolo afgano ma anche per il resto del mondo ora mi farebbe piacere di leggere la frase della mia compagna che ha voluto scrivere per dare voce alle donne afghane credo che il mio viso debba essere mostrato al mondo senza vergogna e senza malizia credo che studiare lavorare entrare in politica siano un mio diritto credo che la decisione su di chi sposare debba essere una mia scelta credo che nessuno debba essere il mio padrone credo che un uomo violento debba essere denunciato senza paura credo che fare una passeggiata da sola per le strade della mia città debba essere permesso credo che la mia religione debba essere una questione personale e non una scelta obbligata credo che la mia voce debba essere udita senza che io abbia paura di farla sentire credo che il sesso della persona che amo non debba essere un problema credo che debba esistere un mondo migliore e spero in un mondo che verrà e spero che il mondo si accorga di noi ragazzi afghani lasciati ad un destino peggiore della morte costerete a vivere una non esistenza grazie per l'attenzione difficile riprendere la parola dopo questa testimonianza Ismaili grazie grazie di cuore e noi adesso vorremmo mostrare quello che andiamo a fare la parola va alla professoressa Lucila Pizzoli nostra docente di lingua italiana organizzatrice delle certificazioni internazionali dell'italiano come lingua straniera assidua collaboratrice con la società Dante Alighieri e l'enciclopedia Treccani dico solo due delle tante cose che Lucila fa e la professoressa Pizzoli ci illustrerà per quel che è possibile perché ancora non abbiamo chiaro il quadro di quante saranno gli studenti che arriveranno comunque quello che il nostro Ateneo farà appunto per questi corsi attraverso il centro linguistico e quindi lascio la parola alla professoressa Pizzoli grazie eccomi la preside mi ha tolto davvero le parole di bocca penso che sia davvero difficile riprendere un po' il filo del nostro ragionamento dopo questo intervento e quindi cercherò di riportare l'attenzione partendo da collegandomi in qualche modo simbolicamente alla data che è stata evocata da Ismail Nassiri che è il 2001 per noi il 2001 è una data centrale per tutto il mondo ma vogliamo ricordarlo oggi soprattutto anche come 2001 anno europeo delle lingue è stato rievocato il ventennale di questa giornata che è stata istituita dal Consiglio d'Europa fortemente voluta dal Consiglio d'Europa in collaborazione con l'Unione Europea proprio per dare un segnale di apertura all'integrazione delle lingue tutte le lingue insieme e in questa giornata anche qui nella nostra università abbiamo cercato anche nelle altre edizioni di dare spazio anche all'italiano l'italiano è una lingua europea è una delle lingue che vengono studiate in Europa e in Italia e questo vogliamo ricordarlo perché anche i nostri studenti quando vengono qui per studiare le altre lingue l'italiano si suppone per la maggior parte dei casi lo sappiano già sono sempre un po' disorientati quando si trovano di fronte nell'offerta didattica anche alla lingua italiana ma vogliamo partire per spiegare questo risalto che viene dato anche alla nostra diciamo lingua di partenza da una considerazione che è quella del principio di interdipendenza di Cummins un studioso dell'età evolutiva uno psicologo che ha speso molte delle sue energie per anche l'apprendimento linguistico per studiare i meccanismi dell'apprendimento linguistico ecco secondo questo principio dell'interdipendenza le lingue si l'apprendimento delle lingue si rinforza se si domina bene anche un altro codice è un po' un'idea di vasi comunicanti più cose si sanno in una lingua più si trasferiscono anche alle altre allora questo presuppone che non ci sia negazione di una delle lingue a vantaggio delle altre se rovesciamo questa prospettiva e la mettiamo a frutto dell'apprendimento dell'italiano da parte di apprendenti non madrelingua di altra lingua ovviamente dobbiamo ricordarcelo per poter consentire loro di studiare l'italiano senza lasciare da parte il loro paese di provenienza lingua di provenienza questa cultura di provenienza ecco questo è un po' il senso della giornata europea delle lingue qualcosa che consente di mettere insieme senza lasciare nulla senza oscurare delle zone allora lo spazio che noi diamo all'italiano un po' come ha ricordato il rettore non è un qualcosa di nazionalistico non è una una forma di affermazione di un'identità a danno delle altre vuole essere una tessera di un mosaico molto variopinto molto colorato che offre delle opportunità in varie direzioni l'Unit si è molto spesa in questi anni per rafforzare il centro linguistico e per l'appunto dare un po' di spazio a diverse opportunità anche di lavoro oltre che di accoglienza per i nostri studenti l'apertura verso l'italiano come lingua seconda è anche un po' in più direzioni come strumenti come servizi diciamo così cioè corsi di italiano per stranieri e corsi e certificazione di italiano ufficiale e qui viene proposta una delle certificazioni riconosciute dal nostro ministero degli esteri che consente agli stranieri che ottengono il certificato di fare domanda per la cittadinanza per il permesso di soggiorno per avere accesso alle università senza dover dimostrare la competenza richiesta quindi insomma è uno strumento comodo che consente appunto diverse diverse funzioni ma la direzione verso l'italiano alle due è anche nella formazione dei docenti nella corso magistrale di lingue per la didattica innovativa è stato disegnato un percorso che consente anche di acquisire tutte le indicazioni necessarie per poter insegnare l'italiano alle due e essere abilitati nella specifica classe di concorso di recentissima introduzione ci tengo sempre a sottolineare questo aspetto perché è davvero una delle poche novità che noi possiamo contare a livello istituzionale su questo in quest'ambito la scuola si è accorta che c'è una presenza importante di studenti stranieri che hanno bisogno di personale formato ecco un po' questa è la chiave sulla quale vorrei insistere la nostra università ha scelto di mettere a disposizione le proprie competenze la formazione specializzata dei docenti con i quali collabora per offrire una possibilità abbiamo detto è un gesto quasi solo simbolico è una goccia nel mare ma è pur sempre qualcosa poter dare alle persone che potranno accedere a questo corso che potranno venire in questa struttura le basi i rudimenti essenziali per l'integrazione la lingua è evidentemente è stato ricordato in varie forme è una chiave è un terreno di condivisione qualcosa che ci consente di interagire con l'altro quindi per forza bisogna passare da questo primo contatto quindi prima diciamo alfabetizzazione si usa spesso per parlare di lingua quella metafora della casa quindi abitare un paese e anche abitarne la lingua chi apre le porte di casa è l'ospite e quindi deve anche aprirle in questa direzione riuscire a far entrare le persone porgendogli lui le chiavi e gli strumenti per poter parlare quindi far abitare la nostra lingua alle persone che si affacceranno nel nostro paese è quasi un dovere di cui dobbiamo farci carico e ovviamente offriremo un corso a livello iniziale il livello di primo contatto così come ci viene presentato dai descrittori del quadro comune europeo di riferimento è un livello di competenza che consente di svolgere compiti essenziali nella quotidianità ma presuppone un fatto molto importante che l'interlocutore sia disposto a collaborare questo è un principio che non dovremo ricordare quindi ai nostri apprendenti ma a tutti gli altri tutte le persone italofone si parlava prima il rettore ricordava il principio della presupposizione che caratterizza molto del nostro modo di interagire dico nostro dalla prospettiva italiana che è vero è proprio così andiamo tanto per scontato a livello proprio testuale e questo va ricordato quando l'italiano l'italofono interagisce con uno straniero che non conosce anche a livello base quei meccanismi anche semplici anche tutte le sfumature i cui esempi sono stati portati questa mattina e che hanno invece un grandissimo peso nella comprensione e nella comunicazione nell'efficacia della comunicazione quindi sarà ben importante che gli insegnanti di cui ci avvarremo per offrire questo corso siano in grado di presentare anche le sfumature essenziali in quelle che non sono solo compiti basici ordinare un caffè al bar o compilare un modulo ma piuttosto appunto le basi per la comunicazione anche quotidiana per questo faremo in modo di coinvolgere tutte le figure professionali di cui disponiamo coinvolgendo però anche i nostri studenti la testimonianza che abbiamo sentito prima è un po' d'eccezione uno studente diciamo con una competenza che va al di là di quello che ci potremmo aspettare anche da chi si avvicina anche ai nostri percorsi di studio ma sappiamo che i triennalisti dei nostri corsi hanno avuto degli input importanti per affrontare un percorso di mediazione interculturale quindi potranno offrire un po' di supporto anche in quest'ottica quindi ci stiamo pensando di costruire questo corso appunto facendoci un po' supportare anche da tirocinanti che abbiano competenze di diciamo per la dei corsi a livello linguistico ma anche interculturale è un aspetto che in questo contesto non possiamo assolutamente trascurare sappiamo che avremo di fronte un gruppo di persone molto eterogeneo si pensa di solito quando si parla di gruppi di rifugiati che siano tutto la stessa cosa ovviamente non è così hanno lingue di provenienza diversa età diverse livelli di scolarizzazione diversi quindi sono gruppi anche con abilità differenziate con i quali sarà bene sapere interagire correttamente quindi l'aspetto che va curato in questo tipo di operazione è proprio il grado di professionalità che l'insegnante anche di italiano L2 deve possedere e questo sarà compito insomma della nostro di preparare al meglio questa opportunità che deve essere corretta deve essere insomma come va fatta con una certa cura voglio concludere solamente con un riferimento così un auspicio piuttosto noi sappiamo di poter offrire per l'appunto un corso iniziale ma sappiamo anche che questo è il punto di partenza per poter poi far crescere persone che abbiano poi interesse a stare e a interagire e a comunicare anche nel nostro mondo se guardiamo quello che registra la banca dati per esempio la banca dati sugli scrittori immigrati Basili che probabilmente molti di voi conoscono noteremo che alcuni degli scrittori che scrivono in italiano venendo da altre lingue vengono dall'Afghanistan e ne cito solo un paio Alidat Shiri che ha scritto Via dalla pazza guerra nel 2007 e Naya Filmi Afghanistan 2016 che hanno evidentemente portato in italiano una voce nuova gli scrittori migranti rappresentano forse una delle realtà più interessanti anche linguisticamente per l'italiano perché lo raccontano lo abitano l'italiano da una prospettiva sorprendente per noi davvero molto nuova e tra questi c'è un gruppo di donne che si sono Sherazade è la nome lo pseudonimo che è stato usato per raccontare queste diverse esperienze biografiche più o meno drammatiche e che è proprio si raccoglie intorno alla riflessione sulla guerra in Afghanistan quindi sono voci che già esistono in Italia e che ci piacerebbe poter rinforzare anche accompagnando gli studenti che frequenteranno i nostri corsi per avvitare l'italiano meglio possibile quindi questo ripeto è solo un augurio ma ci piacerebbe pensarlo così io vi ringrazio e insomma spero di poter presto dare notizie un po' più dettagliate su questa attività grazie Lucilla grazie professoressa Pizzoli ora chiudiamo questo nostro incontro i portoghesi dicono con una chiave d'oro nessuno meglio della professoressa Antonella Ercolani che ci ha messo in contatto con la 9 Ollus e che è soprattutto la prorettrice alla terza missione è docente di storia dell'Europa orientale ben conosce i movimenti migratori che hanno interessato l'Europa e quindi professore Sercolani al tavolo della presidenza al tavolo della presidenza grazie grazie e grazie per questo invito anche perché in realtà poi qui nella facoltà di scienze politiche io insegno geopolitica dei Balcani e dell'Eurasia per cui il fulcro centrale delle aree di crisi nel Grande Medio Oriente per noi è pane quotidiano Afghanistan Iran e Iraq quindi per i nostri studenti questa concretizzazione di rapporti diventa davvero estremamente fattuale laddove poi l'analisi invece continua e a quelle domande noi cerchiamo di dare risposte per quello che è possibile e quindi sono davvero particolarmente onorata davvero di essere qui con voi il mio ruolo qui però è di sintesi per chiudere un po' quello che è il significato quello che è stato il significato di questa giornata perché vorrei sottolineare quanto questa iniziativa sia tra le più importanti e una chiara manifestazione di ciò che è la terza missione Maria Grazia la preside questa mattina già ci ha come dire sintetizzato un po' quello che è il significato della terza missione per le università vorrei appunto però ricordare nuovamente quanto e come l'università mette a disposizione le proprie conoscenze per tutta la comunità sia essa una comunità territoriale limitrofa nella città nella regione nella nazione nel mondo cioè da un livello locale a un livello internazionale l'università ha il compito e il dovere direi di corrispondere quelli che sono i propri saperi nel contesto nel quale sociale nel quale è deve continuare a vivere è un processo quindi di trasferimento delle proprie conoscenze dall'ambito della didattica e della ricerca al mondo esterno ciò che restituisce questo secondo me è un ruolo importante quello dell'università del quale ci dobbiamo con orgoglio riappropriare questo ruolo di componente fondamentale della cultura misurata in relazione alla capacità di divulgare e diffondere di condividere con la società il nostro patrimonio di sapere generato certamente dalle due principali attività di didattica e di ricerca nel nostro Ateneo lo ricordava il presidente questa mattina è vero questa volontà è fortemente marcata è molto marcata questa attenzione aperta al mondo esterno è davvero una è davvero essenziale e anche il Rettore in tutte le occasioni in quali noi abbiamo concretamente realizzato l'attività di terza missione non ha mancato di sottolineare questo impegno e la giornata di oggi in realtà è anche questo è l'impegno che le autorità accademiche e tutti quanti noi abbiamo voluto prendere perché la realtà nella quale ci dobbiamo confrontare appunto non deve essere semplicemente come dire il luogo delle idee ma il luogo della fattualità e questo è il significato della terza missione questo è e lo vediamo appunto sempre nelle nelle attività di terza missione che le facoltà hanno realizzato e continuano a realizzare e in quella anche dell'Ateneo nel suo complesso e la giornata appunto di oggi è proprio un chiaro esempio della capacità di uscire dal nostro proprio contesto interno e di interagire con il tessuto sociale al fine di contribuire allo sviluppo sociale economico culturale in una logica collaborativa e inclusiva il fine dell'impatto sociale della terza missione è proprio quello di intercettare bisogni sociali per incrementare la qualità della vita con un effetto quindi significativo e sostanzialmente migliorativo della vita agendo quindi in termini di contrasto alle disuguaglianze economiche sociali territoriali agendo nel rispetto dei principi di equità uguaglianza pari opportunità e avendo chiaro l'obiettivo di rimuovere le condizioni di disuguaglianza e vulnerabilità la capacità di parlare altre lingue significa unicamente sviluppare una settica competenza plurilinguistica o non anche forse soprattutto promuovere il valore della diversità culturale arricchire la comprensione umana che è sempre comprensione interculturale è promuovere il valore insostituibile del pluralismo che significa rifiuto della politica dell'identità laddove per politica dell'identità intendiamo ovviamente delle appartenenze settarie identitarie è promozione invece delle politiche culturali che sono sempre arricchimento e crescita nell'alterità oserei dire sconfinata privata dei confini ecco allora come questa giornata si inserisce pienamente con coerenza con le altre iniziative dedicate alla promozione al consolidamento delle istituzioni democratiche della pace e dello sviluppo sostenibile che congiuntamente alle altre facoltà di scienze politiche ed economia il nostro Ateneo sta portando avanti è questo insieme la missione la vocazione del nostro Ateneo è una disponibilità consapevole ad agire nella realtà e non dentro le astratte mi piace risottolinearlo la parola è relazione concreta è sempre per metà di chi parla e per metà di chi ascolta e vorrei finire con un interrogativo il canto del mare termina sulla riva o nei cuori di chi l'ascolta e ci interroga costantemente in questo modo Khalil Gibran grazie prima di salutarci no non sta funzionando posso rubare questo perché vedo che forse si sta mi sentite no scusa bene prima di di salutarci va bene tutto ringrazio tutti ringrazio veramente tutti per questa bella mattinata una mattinata molto intensa di lavori e prima di salutarci alcuni avvisi tecnici con i nostri invitati ci spostiamo ora nella sala del consiglio con tutti i presenti con coloro che ci seguono da casa l'appuntamento è per le ore 15 per ascoltare la dottoressa Guendalina Carbonelli Antenna Italiana della Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea che svilupperà come vi dicevo prima il tema opportunità di lavoro e di tirocinio per linguisti alla Direzione Generale della Traduzione e della Commissione Europea vorrei anche ricordarvi che il 29 settembre all'interno del forum Islam si presenterà a cura della Facoltà di Scienze della Politica e delle Dinamiche Psicosociali il volume Afghanistan Passato e Presente di Marika Guerrini ringrazio veramente tutti per l'attenzione e a più tardi grazie 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 a tutti grazie a tutti